Di seguito alcuni suggerimenti per l'utilizzo del misuratore di pressione BC50 di Boirer. Attenersi alle istruzioni per l'use e alle avvertenze di sicurezza. Inserire le batterie. Tutti gli elementi del display vengono brevemente visualizzati. Lampeggia l'indicazione 24 ore. Per impostare il formato dell'ora e della data, tenere premuto il pulsante Start-Stop per 5 secondi. Con M1 e M2, selezionare il formato ora desiderato e confermare con il pulsante Start-Stop. Impostare quindi la data e l'ora nello stesso modo e confermare ogni immissione con il pulsante Start-Stop. Misurazione della pressione sanguigna. La misurazione può essere eseguita da seduti o da sdraiati. Sedersi in posizione comoda. Denudare il polso sinistro e indossare il manicotto sulla parte interna, in modo che il bordo superiore dell'apparecchio sia circa un centimetro al di sotto del palmo della mano. Il manicotto deve trovarsi all'altezza del cuore. Premere Start-Stop. Tutte le spie del display si accendono brevemente. Dopo 3 secondi inizia la misurazione. Vengono visualizzati i valori misurati per pressione sistolica, pressione diastolica e battito cardiaco. Selezionare la memoria utente desiderata premendo M1 o M2. Se non viene selezionata una memoria utente, il risultato della misurazione viene automaticamente assegnato all'ultima memoria utilizzata. Per spegnere l'apparecchio, premere il pulsante Start-Stop. L'apparecchio si spegne automaticamente dopo 3 minuti. Ricerca e cancellazione dei valori misurati. Con il pulsante di memorizzazione M1 o M2, selezionare la memoria utente desiderata. Viene visualizzato l'ultimo valore misurato memorizzato. Premendo nuovamente il pulsante di memorizzazione, è possibile visualizzare valori medi e altri valori singoli. Per cancellare la memoria utente, occorre prima avviare l'interrogazione dei valori misurati. Tenere quindi premuti i pulsanti di memorizzazione M1 e M2 per 5 secondi. Vi auguriamo ottime risultati con il nuovo misuratore di pressione BC50.